Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito Buongiorno Buongiorno Sto cercando per un po' di ricotta per fare la zucotta Perfetto, noi abbiamo queste cassettine qua Sono della ricotta fresca pigianale, priva di conservanti Per cui ha una durata massima di 9 giorni e lo consuma frezzissimo Ma questo è della pecora, non è mucca? Non è mucca, 100% latte di pecora proveniente dalla nostra azienda, zona Pienza e Val d'Orcia Scusa, che tipo di formaggio in pesto? Allora, questo qui è da scherziata, un nostro scherziato Un semistagionato come questo che fa 3-4 mesi Drivato di crosta e così verso con le spezie E' ottimo per fare gli aperitini con una bollicina Io canto per me Donare Oh Cantare Oh Nel tutto dipinto di blu Felice di stare là ciao francesco per tanti anni fai un macellaio 25 anni wow e anche questa la mamma salumi tipici della zona maiale normale non è cinta non è cinta ok ok ecco così va bene sì perfetto ok grazie no 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 davvero c'è bellissima no però te sì anche a seconda 1 sì allora dimmi sopra dal rosmarino una cosa di 1 aspetta vuoi nel bando grande o il bando piccolo no piccolo piccolo vai perfetto questo sono io ok ho capito ho capito Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu La tua voce è una musica dolce che suona Ho bisogno di fare una passeggiata Ma è lontano No, un'ora Ecco questo è l'aglione È l'aglione È piccolo perché quello grande va finito Questo è quello che è rimasto più piccolo Però è sempre molto buono Questo è basta, oddio Grazie Grazie